Ed eccoci qua ragazzi in un altro episodio su Dark Souls 2 Riprendiamo dove c'eravamo lasciati Andando a far fuori tanta gente brutta Eccoli qua Guardatelo Come vuole fare il trappolozzo E io faccio il trappolozzo a lui, attenzione Ah No No porca puttana, no 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 Ah, addio Però questi avvelenano molto se rimani là vicino Madonnina Facciamo così Che cazzo di culo Sì ho dovuto prendere questo anello molto tempo fa Già nell'altro DLC se è stato molto utile Dai prova a colpirmi Non mi vuoi colpire da qua dietro, è stranza Aia Perché io parlo? Mi devo stare zitto L'altro cavaliere? Ah eccolo Mori E che troppa Acqua cremisi Molto utile per me Anzi soprattutto in futuro mi sarà molto utile Quando mi finiranno le erbe Ok Dico si può seguire Ok Qua più avanti ci stanno tutti quanti i vigoretti strani C'è qualcosa qua dietro? Perché sento dei movimenti? Non lo so Nel dubbio vado avanti a sti cazzi Dai Ok di qua Vicolo cieco Di qua si va nell'area dove si va avanti Perfetto E di qua si cade se non si fa attenzione Quindi devo fare un bel salto Che questa è l'area di cui parlavo prima Che ho ignorato completamente E ora vediamo dove ci porta Ma sta roba? Così a caso? Aspettate un attimo Cioè Magari è una gazzata Però Cioè Un tentativo Così giusto per Non si sa mai Allora ci sono Cazzo per sbagliare tutta la gemma Vabbè fa niente Ci sono un sacco di porte Che si possono aprire solo con l'arco In quest'area Da utilizzarlo molto più spesso Aia Cazzo Altri nemici Ma non sono pareti illusori Perché mi menti Bastardo Che quindi dietro non c'è la gente Avanti si può ancora andare Quindi andiamo ancora un po' avanti Prima di tutto dai Però ora comincio a preoccuparmi Di nuovo Devo abbandonare l'anello Perché mi serve Anzi Volendo per sottogliere quello vitale Dai che è buono E tutto il resto però Se faccio attenzione Non mi dovrebbe servire così tanto Certo Lo stesso discorso è valido Anche per questo anello qua Però Avete capito dai Non voglio perdere Dover raccogliere le anime Di nuovo da capo Ogni due secondi Voglio andare Tranquillo Sciallo Senza problemi Godendomi la vita Quindi viene Minchè che trappola Un'altra E ora Oh sì Sì questa è una trappola Che è one shot Proprio Fatta apposta Per essere tale Però Non appena ci sali sopra Su qualcosa Se non altro C'è i tot secondi Per capire Che è una trappola Perché senti un rumore strano Molto sospetto Altre pietre per gli upgrade Questa si sbloccherà Non si può andare avanti Ripurisco Ripurisco l'area qua a sinistra E dopo mi tuffo Va Ma che cazzo Ah il leggendario Dardo oscuro L'ultima volta Non avevi quest'arma Però Scappo via Scappo via Scappo via Madonna Sta per morire malissimo Vuoi crepare Porca miseria Che sta a modo Di voler vivere Madonna Sempre più inquietante Questa voce Quindi La non ci si arriva proprio Cazzo È un peccato Cioè Sono più che certo Che in qualche modo La si attiva Però No Sopra Non c'è niente di strano Attenzione Io dico Che Molte porte Si aprono Con l'arco E scommetto Che ora si apre Questa qua Vero Oppure no Ah no Era quello Ok Aspetta Aspetta No Figata Togli le spine Questo Ragazzi Mi raccomando Se voi giocate Buona Dark Souls E andate in quest'area Tenete gli occhi aperti Perché Qua Come un arco Si attivano i peggio meccanismi Proprio L'arco Ti cambia tutto il gioco Che bello Poter camminare qua in mezzo Senza problemi Che bene essere Attenzione No Non posso Anche se Se salissi Avessi l'inchinazione Giusto No sicuramente Non si può fare Però ci devo provare Dai Andiamo un po' No Non l'ho Becco Mi sa Però scende un pochettino Quindi forse No sicuro no Beh Se non altro Non potete dire Che io non ci abbia provato Cioè da GTR è diventato un puzzle game Scopri dove devi cliccare Per andare avanti Questo avevamo già attivato Infatti è rientrato proprio Guardate non ce n'è nemmeno uno Ok Che ha troppato I guanti a sto giro Che saranno sempre uguali Quindi sti cazzi Qua ci sta un nemico Però questi qua ci hanno Tipo Poese infinita Ignorano completamente I miei attacchi Come se niente fosse Orca puttana raga Dove cazzo siamo finiti Ok qua ci sta il piromante Spumeggiante Il redditore della patria Al pari di nuovo No Era un'invasione singola Ok Qua ci stanno i draghi Ok 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 Ovviamente non sono i draghi Sono mezzi dinosauri strani Ok però Capitemi Ma poi mi viene anche da pensare Ma quelli Possono essere considerati demoni Perché noi li abbiamo trovati solamente Vicino alla culla del caos Che è stata la culla di tutti i demoni E qua si torna a parlare di loro a caso Cioè è possibile Ma se fosse così Che cazzo ci fanno qua Molto strano Molto curioso Che io ormai sto cercando sempre di rivedere le stesse zone 800.000 volte Però non ho riuscito a fare nulla di nuovo Cazzo Vieni vieni sotto Andai bravo Andai bravo Asmetti il gesto te stesso Come una cazzo di trottola Questo è già colpito Vabbè Ah quello screen Non l'abbiamo mai preso alla fine Ok Prima andiamo di qua un attimo Dai Backstep Sì God Minchia Ah è vero Perché c'hanno i proietti mistici questi Cazzo sto per cadere male In salto Cavolo Veramente tosta Qua non vedo nessun pulsante cliccabile O attaccabile O sparabile Non c'è proprio niente Quindi ragazzi Ok Ufficialmente ci rinuncio Sicuramente mi sono perso qualcosa Ma sti cazzi Prendo questo gettuccio E mi tuffo sotto Con gli insetti schifosi Andando del sanguinamento A più uno Ecco qua Uno spade dell'anima E via Ah c'è ancora d'arco però Geronimo Cazzo Non basta ucciderli tutti Purtroppo Però Fa la sua porca figura Sto spadone Fa proprio il suo dovere No Mi devo curare Mi devo curare Quanto fai schifo Parca miseria Stami lontano Oh mio dio Che fatica Eh gemme vitali Ne abbiamo recuperate qualcuna La merda Coraggio richiesto più avanti Amico più avanti Davvero? Controliamo intanto Lo stato del nostro Equipaggiamento Che si è messo Un po' di merda Madonna L'anello della protezione C'è un sacco Di durabilità Figata Che in effetti Dovebbero rompersi Solamente quando muori Quindi ha pure senso Come cosa Però Figata Pensai di potermi Nascondere a me Volgare insetto E qua sicuramente Arrivo in quel punto Dove cercavo di arrivare Per tipo mezz'ora Vero? Vero? Può essere Anello di Flynn Che è un anello Molto figo Non fatto per me Però comunque Molto figo Perché è un anello Che incrementa I danni fisici In base al tuo pezzo Cioè più sei leggero Più fai danno Vero? Esatto Potenzia di attacchi fisici Ah Potenzia di un bel po' Cioè Mega male Aumenta i danni Di 50 Già da ora Quasi quasi Potrei usarlo Soprattutto se poi Lo uso in combinazione Con altri anelli Che aumentano il carico massimo Quindi mi rendono più leggero Ti vuoi colorare Più uno E qua metto invece Il terzo anello Del drago Ecco Se ci togliessimo Quei lapislazzoli Avremmo quanti danni in più Di meno Perché Perché avremmo meno danni extra Scusate Non ho capito Facciamo così Ecco Così di più Ah Può essere che Il peso totale E non il peso così Abbiamo seguito Il glascia Di bandito Facciamolo questo esperimento Vediamo come funziona Questa anello Dessa ceppa Dai Ora Sempre di 50 Ah 50 Sar sicuramente Il massimo Che dopo comincia a scendere Pian piano Però comunque Ho 50 E tanta roba Però non fa per noi Quindi si cazzi Cazzo però Togliendoci tutti i anelli Abbiamo perso gli slot Sono un coglione Perché faccio Ste cazzate No Vabbè Voglio dire che Dovremmo sopravvivere Fino al prossimo Falò Con qualche incandesimo In meno Si può fare Si può fare Però sarà un po' Un'artuola di scatole Eccoci qua Come nuovi Più o meno Abbiamo dovuto abbandonare Però tutte le piromanzie Vabbè sti cazzi Si è voluto andare Molto peggio Se non altro E qua Ah si cade Basta Ok Dove si arriva? Come è morto lui? Ucciso Magari provava a scappare O qua c'è stato un nemico? Ci starà sicuramente Qua un nemico Chezzo Prova a sinistra Perché dovevi provare a sinistra? Vuoi far morire? Aspetta Ma da qui dove siamo arrivati? Ah Capito Ok ragazzi Abbiamo completato il giro In teoria Che da qui dove si cade Però Aspetta Sì sì Invece qua testa Si ripena Ok Torniamo di nuovo Dai culi di drago Anche se Prima di andare Dai culi di drago Ragazzi Potremmo Sì ragazzi Continuo a fare sempre Deviazioni Tornare prima E vedere dove porta Quella scala Dietro degli scrigni Che saprò qua davanti Tra l'altro Vero? Basta che salgo un po' Beh Un po' tanto Però fortuna che qua In nemici sono già tutti morti In teoria O quasi tutti Infatti si sente Che qualcuno qua è vivo Però Ah Cazzo Ho detto La cagata Vabbè Vorrà dire che Dove andare A pieghi Attenti Fino al costo Quelli di drago Dove cavolo si andava Per arrivare là Dritto Qua sinistra No qua È tutto quanto Un figo Cego Ragazzi Mi sto perdendo Non mi ricordo la strada Ok Ora forse sì Bisogna scendere E andare dritto Per dritto Esatto Ma mi ricordo Eh 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 Che mi posso dimenticare Di qualcosa Però no Certo Ecco qua E ora Prima di tutto Meglio se Arrascio Direttamente Fino al falò Che dite No Li faccio fuori Una alla volta Dai Puliti Rago Venite a me Su Da bravo Muori ti prego Che culo Ha droppato Osso di drago Cretificato Ok Questa è una zona Di farming In teoria Sta pure davanti Al falò Proprio Nessuno mi aggrado Ok Meglio per me Cazzo Come non detto Beh Ma mi attacca Sì Però mi posso sedere Che culo Ok Ha smesso di guardarmi In monia molto Minacciosa Ora non so se rimetto I mille pieni Attenzione Prima di tutto Proviamo l'incantesimo nuovo Che in teoria Dovrebbe essere figo Consuma addirittura Due slot Se non è figo Mi ingazzo Quasi questo Dove cominciare a utilizzare Nebbia tossica Contro i nemici Ci dovrebbe essere Molto potente Però No Lasciamo solo La palla di fuoco Potente potente No Quella mediamente Potente sarà meglio Dai Cominciamo a morire Venga venga Sto qua Sto qua Da bravo Vieni Fufi C'è il biscottino Tutto per te Anzi proviamo L'incantesimo nuovo Ma che cazzo è Puzza di cagata Però magari Devo colpire da vicino Ok Fa Molto danno Non me l'aspettavo 660 danni Invece per la cristallizzata Fa Ok Fa più danni Della lancia Dell'anima cristallizzata Da vicino Da lontano Da lontano invece Quasi niente Ok Volendo me la poter Tenere questo Incantesimo Diventa Il mago completo No A sto punto Togliamo pure La palla di fuoco Così mi posso Togliere Poi Il guanto Da più romanzia In generale E mi metto Magari la polvere Pi parante Ci sta anche Dile Oppure il Geyser Dell'anima Che è sempre figo Laga È sempre figo Ma sì dai Questi sono giganti Contro di loro Il geyser Andrà bene E ora Sì Che bello Perché usare La piromanzia È bello Però Avere tre Catalizzatori Cioè Tre armi Di cui due Catalizzatori È una rottura Di scatole enorme Ah T'ho schivato Sto giro Stranzetto No Minchia Che colpo Di piede Madonna Come si sta Buggando Morì Boom Ma poi Quanto sono brutti Quello M'ha visto L'altro dietro Spero di no Perché Sono so cazzi Ma non è solo Dei due M'ha visto In teoria Beh È tempo Che vi facciamo dare No Aia Beh Geyser Geyser Dell'anima Boom Madonna Quanto va detto il Geyser Conto questi grossi Ovviamente Conto i nemici piccoli Oppure comunque agili Serve a un cazzo Ma contro questo È perfetto Su Su Tocca a te Tocca a te Piense Posso fare pure Dalle distanze In teoria Sì Mille di danno Mille Ok Non ne basta la pena Via Ok 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 Buono buono Anche scaglie Sì Regi sta Gli sta Che sta zona Io voglio ripulirla Solo una volta In modo da avere Diciamo Un po' di chiarezza E poter vedere Con calma Tutti i vari oggetti Segreti che stanno Qua intorno Ok Ecco i prossimi Piori due insieme Minchia Li becco entrambi Spero di no Cazzo A sto giro L'ho fatta la cagata L'ho fatta E come la cagata Cazzo No 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 Lasciatemi in pace Non posso Dovelo correre Perché c'è l'acqua Porca puttana Ok Due gemmine Posso combattere In teoria Fortuna che ci sono Un sacco di Diciamo Ostacoli naturali Che ci permettono Di giocare Alla un pochettino Ok Morti entrambi Che culo Qua ho rischiato Di brutto Ah che bello Ma che sono tornato Un mago Vero Mi sento molto meglio Tutti incantesimi Magici Tutti bellissimi Radiosi Ora Non mi resta che Dare un'occhiata veloce A questa zona Però Lo farò In un prossimo episodio Perché Per oggi ci fermiamo Qua ragazzi Se il video vi è piaciuto Fatemelo sapere Con like E commenti Ricordatevi di iscrivervi E noi nel dubbio Ci rivediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima